e col destro che gollo col 8 che gollo col destro che gollo buonasera amici telespettatori benvenuti qui su S-Cup TV per la diretta del terzo Big Match che si disputerà qui ai campetti Kennedy dove il gelo ormai è sceso si affronteranno VFF e Farabrutti arbitra Stanziano Sandro ecco il saluto al pubblico e poi lo scambio di strette di mano tra calciatore ed arbitro sempre bel gesto di fair play prima del tocco si terrà adesso Rosati contro Rosiello dunque darà inizio il match i ragazzi di Rosati e poi toccherà nel secondo tempo ai ragazzi di Rosiello il VFF primo tempo tra Farabrutti VFF 0 a 1 il parziale e poi Grazie a tutti. 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 Inizio di secondo tempo tra VFF e Farabrutti, sempre 4 a 4 in parziale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.